Buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Molto è successo nella vita politica del nostro paese e anche in quella personale di Renzi e noi l'abbiamo riepilogata brevemente in un servizio. Vediamo. C'è un film rouge neanche troppo sottile che collega la vita politica di Matteo Renzi e che passa da luoghi particolari o da date scritte in grassetto sul calendario. Una sorta di simbologia che ritorna frequente durante l'ascesa di quello che un tempo era considerato il rottamatore. A partire dal 29 settembre 2008, esattamente otto anni fa, quando dal palco del Palacongresso di Firenze lanciò la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico per la corsa al sindaco di Firenze. Il suo avversario allora era l'intero establishment della sinistra gigliata che lo avrebbe volentieri tenuto ancorato ad un secondo mandato da presidente della provincia. Eppure lui non solo rifiutò l'incarico, ma sfidò quattro candidati Lapo Pistelli, Michele Ventura, Daniela Lasti e Eros Cruccolini vincendo a sorpresa senza bisogno di andare al ballottaggio con il 40,52% dei voti. Il suo slogan lasciava spazio a pochi dubbi, o cambio a Firenze o cambio a mestiere. Difficile a otto anni di distanza non vedere le forti analogie che oggi animano la discussione intorno al referendum costituzionale. O cambio all'Italia o cambio a mestiere, ha detto in soldoni qualche mese fa quel Renzi che oggi è primo ministro. Perché il referendum costituzionale, inutile legarlo, è la madre di tutte le riforme, la chiave di volta di una politica che da decenni prova a tenere il passo con gli altri paesi senza riuscirci male. Perché la storia insegna come il tentativo di abolire il bicameralismo perfetto sia stato una termopili per tutti i governi che ci hanno approvato, a sinistra e a destra, come se la Tavica voglia di non cambiare vincesse ogni volta sulle necessità oggettive di rendere lo Stato più snello e competitivo. Cercherà di spiegarlo proprio lui, il rotamatore, aprendo dal palco dell'Obiol il suo tour di campagna referendaria in giro per l'Italia. Un Obiol noto a chi lo conosce perché se la data del 29 settembre ricalca quella del 2008, il luogo è il simbolo di una dolce sconfitta, quella alle primarie del 2012 contro Pierluigi Bersani, che nel giro di poco si sarebbe tramutata in vittoria netta. Quella scalata verso Palazzo Chigi, iniziata il 13 settembre a Verona e condotta in camper, toccando tutte le province italiane, passo prima dalla sconfitta il 2 dicembre contro Bersani e poi dalla vittoria l'anno dopo con il 67,5% dei voti contro Cooper, Luccivati e Pittella. Una vittoria che restituì al paese l'immagine di un leader ambizioso, deciso a cambiare il PD e l'Italia. Il 22 settembre 2014 Renzi divenne presidente del Consiglio dei Ministri, il più giovane dall'unità d'Italia. In questi otto anni un mandato da sindaco a Firenze, un governo di scopo, le riforme come Job Act e Buona Scuola, tre libri scritti, decine di convention realizzate a partire dalle Leopolde. Il nuovo capitolo che parte oggi dal lobby hall segnerà un'altra tacca sulla timeline del Rignanese e solo il tempo potrà dire se il luogo e data saranno di buon auspicio come già lo sono stati per lui fino ad oggi. Vedremo, vedremo quello che sarà, insomma noi stasera tra l'altro faremo una puntata leggermente più breve proprio per lasciare spazio alla diretta a partire dalle 9 e qualche minuto, insomma 9.05, 9.10, proprio dal lobby hall per sentire insomma quelle che saranno le parole di Renzi dal palco. Però noi di questo parliamo, degli anni scorsi, ma parliamo anche di quello che succederà da stasera in poi e che succede nel Partito Democratico proprio con un suo rappresentante, Marco Pierini, che saluto e ringrazio. Buonasera. Buonasera, grazie. Marco Pierini si occupa, fa il capogruppo del Partito Democratico a Montespertoli, poi anche nel circondario di Empolese Valdelsa del Partito Democratico e anche nell'Assemblea regionale, se non sbaglio. Sì. Più o meno, insomma, mi sembra averli detti tutti i tuoli. Giovanissimo, però, renziano della prima ora, si può dire così in qualche modo? Si può dire così, sì. Senti, Marco, dirò del tu. Certo. In questi otto anni, insomma, l'ascesa è stata rapida, lo diceva anche il servizio, un po' contro tutti e tutti si candidò all'epoca come alle primarie per il sindaco di Firenze, perché qualcuno avrebbe voluto fargli un iterum leggermente più lento, come nel Partito Democratico, almeno fino a qualche tempo fa si era abituati a vedere. Oggi sono cambiate un po' le cose. Oggi sono cambiate un po' le cose, sì. Da tre anni a questa parte, insomma, abbiamo vinto le primarie e, secondo me, possiamo dire che abbiamo costruito davvero il Partito Democratico. Cioè abbiamo superato quella fase ancora di fusione a freddo tra le due vecchie anime del centro-sinistra, cioè di essere la Margherita, e siamo entrati in una fase nuova, che è una fase profondamente importante, perché questo, insomma, non soltanto a detta mia, ma un po' anche a detta della maggioranza del Partito Democratico, è una fase profondamente diversa, nuova, e che porta con sé anche delle esperienze veramente interessanti e soprattutto delle battaglie nuove. E fortunatamente qualcuna riusciamo anche a portarla a casa. Naturalmente è questa fusione a freddo di cui parlavi tra Margherita e DS, che poi ha provocato forse anche lo stracismo, in qualche modo, la difficoltà di permeare quell'area dei DS, che forse aveva accettato il Partito Democratico come era stato concepito, perché poi sostanzialmente forse lo aveva sempre governato, in qualche modo, nella maggioranza. Poi quando è arrivato il leader, in qualche modo, proveniente dall'altra parte, appunto dalla Margherita, che si è preso lo spazio all'interno del Partito Democratico, forse è questo che ha inclinato un po' i rapporti con quella sinistra che oggi è la minoranza da M, si potrebbe dire così. Sì, mi permetto di dire che questo ha forse inclinato i rapporti con la dirigenza, con una parte della classe dirigente, ma non con il popolo del PD. Quindi, questo al di là delle provenienze, io, come tanti altri, come tutti quelli che si impegnano nel PD sul territorio, vanno in giro, parlano con le persone, con i nostri iscritti, con i simpatizzanti, perché poi il PD è fatto di tante forme di impegno, e quello di cui noi ci rendiamo conto è che la strada che stiamo percorrendo insieme al segretario, ma insieme a tutto un nuovo gruppo dirigente, è la strada giusta. Questo al di là di quello che si è votato alle primarie, sia nel 2012 che nel 2013. L'esigenza di andare avanti e provare a cambiare è sentita da tutta la base del Partito Democratico. Il problema, se esiste un problema e se possiamo definirlo così, riguarda più le polemiche interne a parte della classe dirigente. Tra un po' ci arriveremo, intanto chiedo alla regia se riusciamo a collegarci anche con il giornalista Ernesto Ferrara, che ha seguito da sempre Renzi nella sua campagna politica, nella sua vita politica, diciamo così. Se mai mi fate un cenno voi dalla regia. Intanto con Marco volevo chiedergli una cosa, perché te hai frequentato anche da sempre più o meno le Leopolde, sei un assiduo frequentatore, sei salito anche sul palco. Ti chiedo se, come spesso viene detto, quanto del Renzi di governo c'era a suo tempo nelle Leopolde? Quante delle riforme che sono state messe in pratica partivano già da quella del laboratorio lì, dalle Leopolde? Io direi la maggior parte. Penso alla riforma costituzionale, che so che è il grande tema, il tema di questi mesi, e che era uno dei punti principali alle Leopolde, penso alle unioni civili, penso ai cosiddetti 80 euro in busta paga. Tutte queste misure noi ce le siamo raccontate, le abbiamo elaborate in 4-5 anni di Leopolde. E se vuoi anche questo, quello che c'è di nuovo, è che noi abbiamo elaborato negli anni delle proposte, cambiandole, modificandole, adattandole ai tempi, e poi siamo riusciti a portarle avanti, con tutti i limiti, le difficoltà, ma siamo riusciti a portare a casa molto di quello che ci siamo detti di dover fare, che il Paese doveva fare. Senti, c'è una questione, perché all'interno delle Leopolde una delle critiche maggiori venivano rivolte a Renzi era quella di, sul fatto che ci fossero poche bandiere del Partito Democratico, sostanzialmente. Non c'erano. Ecco appunto, e non c'erano. Se non, di qualcuno magari la portava perché voleva dare l'imprimatura in qualche modo, ma era un'iniziativa privata del singolo cittadino. Oggi forse non è più nemmeno questo il problema in chi non riconosce Renzi come potenziale leader del Partito Democratico, perché non è il fatto che lui sia esterno al Partito Democratico, però qualche alleanza, mi viene in mente quella con Verdini, ha inclinato un po' questo dualismo automatico che ci sarebbe tra Renzi e il PD. Come dire, fa parte anche questo di quel filo conduttore delle bandiere che mancavano alle Leopolde? No, non credo, nel senso che il tema delle bandiere mancanti alla Leopolda era l'idea di avere uno spazio politico che fosse aperto e che riuscisse dall'esterno a portare energie nuove anche al Partito Democratico. Quello era il senso dell'assenza delle bandiere. Ecco, tutto quello che è successivo e quindi anche il sostegno del gruppo parlamentare di Ala alle riforme costituzionali non c'entra ed è semplicemente un'esigenza dettata dai numeri in Parlamento e anche, se vogliamo, da uno sforzo comune per fare le riforme istituzionali, che è uno sforzo che non coinvolgeva soltanto il gruppo parlamentare di Ala, ma che inizialmente, come sappiamo, coinvolgeva anche grossa parte del centro-destra. Veniamo appunto al discorso della riforma costituzionale. Insomma, il rimpallo ci è stato, è stato discusso in Parlamento per sei volte, con sei letture, se non sbaglio. Si arriva adesso a votarla il 4 dicembre. Intanto sulla data, facciamo un accenno su questo. D'Alema, se non sbaglio, ha usato, insomma, ha fatto il terrorismo psicologico dicendo che il 4 dicembre ci sarà la neve, insomma, la foschia sarà nel cuore dell'inverno. Ha usato questa definizione esattamente. È una data sventurata, secondo lei. Ma no, direi di no, anche perché, insomma, le analisi sulle date lasciano un po' il tempo che trovano e credo non siano state fatte in tutte le altre occasioni elettorali, almeno fino adesso. Io mi concentrerei sul merito della riforma costituzionale, anche perché potrebbe venire voglia di pensare che parlare della data indichi un po' l'assenza di vere motivazioni di merito, per cui si dice no a una riforma costituzionale come questa. Allora, nel merito, una delle questioni, naturalmente faccio l'avvocato del diavolo in questo caso, una delle questioni che viene tirata fuori dal fronte del no è quella di un possibile combinato insieme alla legge elettorale che provi sostanzialmente, provochi, dia troppo potere nelle mani del premier e quindi che sia in qualche modo, ne venga minata la democrazia in qualche modo. Sì, è una critica che posso aspettarmi da chi non conosce i sistemi elettorali, da chi non si è studiato a fondo la riforma istituzionale e la legge elettorale. A parte che sulla legge elettorale, come sappiamo, c'è un discorso a parte. Certo, non si vota quella. Esatto, quindi questo però è importante, nel senso che la riforma costituzionale non tocca quella parte della Costituzione che interviene, che disciplina i poteri del Presidente del Consiglio e le prerogative del Governo e del Consiglio dei Ministri in particolare. Quindi, sgombriamo il campo da questo, non si parla di rafforzare il potere del Presidente del Consiglio. Dico io, le riforme precedenti, non soltanto quelle volute dal centro-destra, ma anche quelle volute dal centro-sinistra, chiedevano un rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio. Quindi noi siamo stati molto... Addirittura che quella di Berlusconi c'era avere il potere, il premio di distogliere le cose, se non sbaglio. Esatto, esatto. Mentre quella di D'Alema comunque proponeva una sorta di semipresidenzialismo. Quindi, non parliamo di rafforzamento dei poteri del Premier e per quanto riguarda la legge elettorale, sempre che rimanga questa legge elettorale, anche se il Partito Democratico ha assicurato che comunque deve esserci governabilità, come cardine delle future anche proposte di modifica della legge elettorale, questa legge elettorale è una legge elettorale proporzionale con il premio di maggioranza. Quindi vuol dire che, al di là del partito che vince e che ottiene con il 40% se ci arriva o al ballottaggio, se accede al ballottaggio, circa il 54% dei seggi, poi il resto dei seggi sono attribuiti su base proporzionale. Penso ad altre grandi democrazie, penso a quella inglese per esempio, in cui il sistema è totalmente maggioritario. Penso anche a tutte le proposte che il centro-sinistra ha fatto finora sulle leggi elettorali che andavano sempre verso un sistema maggioritario di collegioni nominali. Questo vuol dire, diciamo, differenza di democraticità, se di questo possiamo parlare, molto 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 più elevata ed evidente rispetto a quella che introduce l'attuale legge elettorale. Si parla di due cose diverse. Con la riforma costituzionale si parla della macchina dello Stato e in particolare dell'abolizione del bicameralismo perfetto e del titolo quinto. Quando si parla di legge elettorale si parla di altro, si parla dell'elezione dei membri della Camera dei Deputati. Sono due temi diversi su cui le persone non si pronunceranno e infatti saggiamente la Corte Costituzionale ha anche posticipato la valutazione di merito sulla legittimità costituzionale della legge. Quindi da questo punto di vista io mi sentirei di tranquillizzare un po' tutti. Se non siamo in mala fede possiamo tranquillamente parlare di riforma costituzionale senza tirare in ballo la legge elettorale. Altra questione è quella appunto della Camera dell'Autonomia. Insomma il Senato si trasforma in Camera dell'Autonomia. I senatori diventano 95 più 5 espressi direttamente dal Presidente della Repubblica che saranno composti da consiglieri regionali e dai sindaci delle grandi città. Sostanzialmente molti dicono che è già difficile fare più che il consigliere regionale i sindaci è già difficile fare quel lavoro, spendere tempo per recarsi a Roma e decidere, discutere sulle leggi così a chi fa il sindaco 24 ore su 24 è molto complicato. Anche proprio in termini di tempo. Su questo c'è un po' di confusione perché guardiamo come sarebbe opportuno fare quando si vanno a votare pacchetti di riforma importanti come questo anche alle altre esperienze delle democrazie europee. La Germania ha una Camera delle Regioni che è più piccola di quella che noi andiamo a introdurre con la riforma costituzionale che si vede e che si riunisce molto 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 meno rispetto alla Camera Bassa che invece è la Camera che dà la fiducia all'esecutivo. Quindi semplicemente vedersi meno perché la Camera delle Regioni si deve occupare di molti meno temi rispetto alla Camera Deputati permette senza alcun problema che consiglieri regionali e sindaci possano anche svolgere il lavoro di senatori. Ok, quindi lascia il tempo insomma di fare i propri lavori. Certo. Il proprio lavoro. Altra questione, così le diciamo un po' tutte, c'è ovviamente la riforma del titolo quinto che sostanzialmente ridistribuisce i poteri che erano in capo alle Regioni e vengono ridistribuiti tra Stato e Regioni. In modo particolare si parla del turismo, ne abbiamo parlato spesso, ieri ne abbiamo parlato anche con il direttore della Confosegente Toscana Massimo Viagioni in termini del turismo appunto, ma anche e soprattutto il comparto energetico che forse è quello che poi sostanzialmente fa più ciccia per le Regioni cioè quello che poi vale economicamente anche molto di più perché c'era questa necessità dopo che il federalismo fino a qualche anno fa sembrava la soluzione a tutti male. anche per la sinistra. Noi come centro-sinistra abbiamo fatto un grave errore nel 2001 riformando il titolo quinto perché abbiamo pensato che rincorrere la Lega Nord che in quel momento aveva un forte consenso elettorale potesse in qualche modo arginarla e diciamo rappresentare quell'esigenza forte di autonomia che c'era soprattutto al centro-nord. Con il tempo ci siamo accorti che con la riforma del titolo quinto la Corte Costituzionale si è ingolfata di contenziosi e quindi moltissimi contenziosi fra Stato e Regioni sono arrivate all'attenzione della Corte procurando numerosissimi problemi anche in termini di certezza del diritto perché poi è un tema che riguarda direttamente le aziende e gli investimenti da fare sul territorio soprattutto sul comparto energetico e sulle infrastrutture, sulle grandi infrastrutture c'era l'esigenza di riordinare la disciplina e di garantire che alcune materie ritornassero nella sfera di competenza dello Stato perché non è pensabile che temi strategici per l'interesse nazionale sia economico ma anche banalmente non soltanto macroeconomico e quindi di rapporti economici interni ma anche geopolitici, penso all'energia, possa essere deciso dalle singole regioni ma questo non perché le regioni siano la causa di tutti i mali le regioni sono un elemento importantissimo del nostro ordinamento però c'è la necessità che alcuni temi strategici e di rilevanza nazionale debbano essere decisi a livello nazionale Allora, dicevamo, poi magari ci ritorniamo sulla riforma costituzionale anche perché tra l'altro c'è anche l'abolizione del CNEL la riduzione del numero dei parlamentari e dei costi connessi ma questo in parte l'abbiamo detto c'è anche però, cambia il sistema referendario magari diciamolo due parole, tanto siamo in chiusura della prima parte poi riprendiamo dopo cambia anche il sistema referendario viene inserito il referendum propositivo e cambiano anche però il quorum e il numero di firme da presentare Sì, questo secondo me è uno degli enormi pregi della riforma costituzionale e è anche il motivo per cui io continuo a sostenere che questa riforma faccia un enorme passo avanti in termini di democraticità e soprattutto in termini di permettere ai cittadini di esprimere la propria opinione perché innanzitutto si introducono in referendum propositivi e di indirizzo e questo è un fatto nuovo, del tutto nuovo e poi si cambia la disciplina del referendum abrogativo perché con 500 mila firme il quorum è della metà degli aventi diritto al voto quindi come adesso se io raggiungo 800 mila firme e quindi se il referendum abrogativo, se il quesito è molto importante e sentito a livello di cittadinanza il quorum diventa quello della metà più uno degli elettori delle ultime elezioni politiche visto che noi abbiamo tra l'altro un'affluenza in leggero calo soprattutto a livello nazionale questo permetterà senz'altro a numerosi quesiti referendari di essere veramente effettivi e discussi anche perché poi c'è l'obbligo di discussione alla Camera viene inserito con la data certa esatto e poi se mi permetti anche molto importante il fatto che fino adesso le leggi d'iniziativa popolare non dovevano essere obbligatoriamente discusse dalle Camere adesso le leggi d'iniziativa popolare alzando la soglia delle firme da raccogliere devono obbligatoriamente essere discusse questo è evidentemente maggior spazio per i cittadini va bene, allora ci fermiamo per questa prima parte nella seconda parleremo anche con Ernesto Ferrara torneremo su questo 29 settembre insomma perché è una data importante 5 minuti di informazione e poi torniamo in studio restate con noi ben tornati in studio a Telegram allora siamo con Marco Pierini il Partito Democratico ma siamo anche con Ernesto Ferrara giornalista di Repubblica in collegamento lo saluto ciao Ernesto buongiorno ciao Ernesto ciao a tutti allora te hai seguito insomma fin dall'inizio diciamo la carriera politica di Renzi e il 29 settembre del 2008 dal Palacongresso lui si candidò a quelle primarie del centro-sinistra vincendo da outsider possiamo dire così in otto anni che cosa è successo nella vita politica di Renzi fino ad oggi? beh è successo che gli outsider sono diventati tutti gli altri nel senso che quella che partiva come una sfida lanciata anche contro i titani della vecchia sinistra all'epoca del giovane venuto diciamo dagli ambienti popolari più centriste diciamo dall'esperienza della Margherita il giovane Matteo Renzi presidente della provincia che che fece accordi all'epoca con con i vecchi PS strappando per sé la presidenza della provincia assegnando questo è un particolare curioso praticamente tutti i sindaci della provincia IDS e lui presidente fu una delle prime occasioni in cui IDS non capirono che cosa in quale diciamo guaio si sarebbero impilati nel senso quale guaio in quale guaio si sarebbero cacciati nel senso che e questo poi sarebbe successo anche alle primarie per il sindaco le ambizioni e le potenzialità di Matteo Renzi ancora otto anni fa nel 2008 sembra un'era geologica fa erano assolutamente misteriose e ignote solo in pochi avevano scommesso su di lui e credevano in lui lui sbancò come come si immaginava seppur di poco perché le primarie del 2008 furono un furono abbastanza combattute però lui vinse vinse con i calcoli che aveva fatto lui disse che avrebbe preso 15 mila voti mi ricordo benissimo il suo comitato elettorale sosteneva che avessero 15 mila voti qualcuno in più di Pistelli ne avrebbero circa 4 mila in più e alla fine da lì lui arrivò a Palazzo Vecchio e poi tutti i fai senti infatti anche perché lo vediamo in sovrimpressione insomma le immagini poi di quel 2012 a Verona in cui iniziò il tour in camper per tutte le province italiane e che poi l'avebbe portato a Palazzo Chigi oggi è il 29 settembre 2016 otto anni dopo Rezzi si gioca forse la partita più importante da quando è in politica Beh sì questa è decisamente più importante direi oltre che per se stesso anche per il sistema politico del Paese non ne faccio solo una questione di diciamo di portata della modifica costituzionale che pure è importante è evidente però che gli occhi di tutto il mondo non solo europei mi oserei dire ma addirittura dello scacchiere internazionale sono puntati nei prossimi due mesi anche sull'Italia perché è evidente che questa sfida non è solo una sfida sulle modifiche degli articoli della Costituzione è anche una sfida sul Paese ed è una diciamo un banco di prova della tenuta del governo è evidente che di fronte a un risultato negativo forse Renzi potrebbe non dimettersi ma di sicuro il suo diciamo il suo percorso dovrebbe subire modifiche enormi e io comunque reso dell'idea che lui si dovrebbe dimettere e credo che lo farà però se perdesse non è al momento quello che prevedo nel senso che insomma Renzi è uno bravo a fare le campagne ne ha salite alcune ma la maggior parte la maggior parte se le è cavate piuttosto bene certo ci sono delle variabili anche un po' indecifrabili al momento ed è su quello che insiste molto uno dei messaggi che lancerà stasera proprio stasera dall'OBO di Firenze il 29 settembre 8 anni dopo insomma in un questa data anche simbolica sarà più o meno quello che dicevo 8 anni fa ovvero convincere gli indecisi convincere gli indecisi e questo è naturalmente anche perché è il partito più grande con il 44% circa degli indecisi su questo referendum grazie mille Ernesto Ferrara per essere stato con noi per questi ricordi grazie a voi tutti a presto salve a presto ciao Ernesto allora con Marco Perini convincere gli indecisi è quella la strada primaria sì come vediamo anche insomma dagli ultimi sondaggi che comunque secondo me non devono spaventarci specie in questa fase della campagna elettorale perché mancano ancora due mesi gli indecisi sono il grande spazio a cui noi ci dobbiamo rivolgere anche io di questo sono sicuro e sono se posso dire anche moderatamente fiducioso sul fatto che la bontà della nostra proposta che non è soltanto nostra ma che ovviamente dovrà raccogliere un consenso più ampio di quello che è del solo partito democratico riuscirà in parte anche a convincere gli indecisi o comunque quelle persone che sono o sono state lontane dalla politica perché questo è un messaggio di grande apertura che la politica con coraggio ha saputo dare anche all'elettorato secondo me questo è un tema molto importante cioè quello della disaffezione perché in un momento in cui forse siamo ai minimi storici almeno di quelli registrati fino ad oggi di gradimento di tasso di gradimento da parte della popolazione nei confronti della politica si dà al popolo la possibilità di decidere sul futuro sostanzialmente delle regole politiche come dire spaventa questo in qualche modo? No non spaventa se tutti noi che siamo in gioco in questa battaglia quindi non parlo soltanto dei dei sostenitori del sì riusciamo ad affrontare questa sfida senza malafede avendo il coraggio degli argomenti che possono essere a sostegno o contro la riforma costituzionale ma sempre rimanendo nel merito se noi rimaniamo nel merito e parliamo di quello che potrà o non potrà portare la riforma agli italiani secondo me riusciremo anche a convincere gli italiani che questo non è il dibattito sterile fra chi gioca alla politica o fra i pochi che se ne interessano ma è una cosa che riguarda tutti e proprio per questo ha veramente necessità e bisogno di essere sentita dalla cittadinanza una domanda riguarda anche i confini più ampi perché giustamente Ernesto Ferrara diceva che gli occhi un po' internazionali sono puntati su di noi è venuto Kerry insomma in rappresentanza dello Stato americano ha parlato del referendum costituzionale si sa che dall'Europa anche se i contrasti in questo momento ci sono e sono anche forti però insomma si guarda a questo referendum come una data molto importante però è anche vero che un po' in tutto il mondo in Europa in modo particolare i sentimenti più diciamo populisti direbbe qualcuno o anti-europeisti sono piuttosto forti e guadagnano terreno ma anche quelli più radicalmente opposti alla politica e noi abbiamo sempre conosciuto mi viene in mente Trump negli Stati Uniti questo come dire incedere in qualche modo si vede anche in Italia sì sì è molto forte anche qua è molto forte anche qua a livello europeo tutti guardano con evidente preoccupazione o comunque interesse alla sfida che noi stiamo facendo qua in Italia ma semplicemente perché l'Italia ha che ne dicano anche i detrattori del nostro paese in sede di dibattito italiano un forte peso a livello europeo cioè noi siamo un paese dal punto di vista economico e dal punto di vista politico che volente o nolente poi al di là delle leadership temporanee eccetera che ha un forte peso in Europa se io penso che in Spagna non hanno un governo da mesi e mesi e i sondaggi ci dicono che probabilmente le prossime elezioni continueranno a produrre un risultato frammentato come quello che c'è stato recentemente se penso a Marine Le Pen in Francia alla Brexit nel Regno Unito e quindi a tutte quelle forze Farage e tutti i populismi è ovvio che a livello internazionale si sente la necessità che l'Italia da questo punto di vista faccia una scelta consapevole secondo me se l'Italia veramente si studia il testo della riforma costituzionale farà una scelta consapevole e questo andrà a beneficio di tutti perché poi ricordiamoci che al di là del destino del leader della leadership del Partito Democratico degli iscritti del Partito Democratico quello di cui noi stiamo parlando non faccio il catastrofista ma è la stabilità del sistema politico certo in ballo c'è il paese più di Matteo Renzi certo questo insomma è giusto ripeterlo perché è piuttosto importante allora siamo in chiusura i tre hashtag di oggi uno ne abbiamo parlato ampiamente il 29 settembre poi ce ne sono altri due che riguardano due compleanni illustri diciamo così uno è hashtag bersani però molto poco cliccato rispetto all'altro invece che è Silvio80 insomma in qualche modo tra chi gli fa gli auguri tra chi invece gli fa i non auguri diciamo così per usare un eufemismo è comunque rimane comunque un personaggio divisivo ma sempre molto discusso sì rimane un personaggio discusso e lo è stato per tanto forse troppo tempo anche nelle discussioni non soltanto del centrodestra ma anche del centrosinistra è ovvio che Berlusconi ha veramente inciso fortemente nella vita politica del nostro paese nel modo in cui noi guardiamo alla politica anche in quello che noi ci aspettiamo dalla politica mi fa un po' così sorridere che molti io leggo ho scorso un po' le varie timeline guardate un po' sugli hashtag mi fa un po' sorridere che molti lo abbiano associato Berlusconi all'inizio del loro impegno politico ecco questo mi fa sorridere e da un certo punto mi tranquillizza perché io ma come tanti altri si sono affacciati al partito democratico negli ultimi 3, 4, 5 anni non si sono affacciati in politica per lui ma si sono o meglio contro di lui ma si sono affacciati in politica per qualcos'altro cioè per una propria idea per proprie convinzioni anche per voler portare a casa un proprio progetto e questo secondo me ci deve far guardare anche con maggior soddisfazione nonostante appunto un po' i revival che abbiamo il 29 settembre va bene insomma auguri a Berlusconi e a Bersani e a Bersani anche ovviamente comunque la politica per quanto importante non nasce non finisce con loro diciamo così allora noi lasciamo spazio in questi ultimi minuti alla diretta da Lobby Hall ci colleghiamo direttamente lì con il palco per ascoltare Matteo Renzi in questa partenza del tour per la campagna referendaria ci vediamo naturalmente con Telegram domani io ringrazio Marco Pierini per essere stato con noi grazie a te grazie a voi grazie a voi per averci seguito da casa la termina qui Telegram ci vediamo domani una buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.